se sei bloccato ah no eccomi oggi siamo un nd quindi stefodk stefodk scusate in essenza che non ho fatto i video ma ho avuto sempre impegni l'ottolo di coglioni quindi sono rimanda poi alien non c'è stato quindi niente video di minecraft perchè 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 avevo dei suoi impegni comunque andiamo avanti va completiamo sta serie e sto maledetto gioco che sto durando anche troppo ora dobbiamo andare a prospettive elevate dobbiamo andare lì sotto a incontrare rei santos sperando che ci arrivo sano e salvo sano intero voglio dire sei sano e salvo cazzo sto dicendo scusate è lag come sempre se non lag non è un wad eeeeeh oh mamma mia ho la peppina se vuoi morire cazzo è sto coso ma davvero dal cazzo mamma mia ma guardate che strada sto facendo per tagliare il uuuh da notare la mappa guardate devo arrivare lì sotto me ne ho fatto un cazzo del zombie via mamma mia un pallo c'era lo volevo so per prendere io bello sto fuori da strada dai però costi lag riprenditi ecco boom oh mamma mia no no fumo no dell'acqua si sp... guardate che ora mi fa uscire ripeto io non so niente di sto gioco come... come l'ho detto all'inizio non guardo gli altri youtube per impararmi a giocare dei giochi me li faccio da solo come le mod di minecraft per questo la dimensia qualche se fermate perchè non mi... non so come cazzo si fa l'altro portale cioè l'ultimo portale succhiamelo succhiatemelo zombie zombie oh beeeh comunque dicevo ma... non dipenso qualche fermo per quello perchè non so come fare uh ascolta lei ciao lei sono felice che l'hai fatto spero di non l'aveti fatto fare troppa strada a volte mi piace venire qua giù su e lo... eh... ti fa davvero di... rrrrrrrrra si va bene ma... mi devi raccontare i miracoli il primo sindacolo mi... ecco questo si chiama M dobbiamo stare insieme facci i fatti nostro ma aiutare anche i bifini quando ne ha bisogno eh va bene dei ti muovi grazie truffi mi fa davanti credo si 바 bene pal si va bene buon mio padre mio ah ahah lo so che non sei tuo padre tuo nonno sei un test di minchia ormr all Bo uh bravo lasciamo un po di tempo per preparare qualcosina una sorta di recato di benvenuto nel quartiere quando sarò pronto ti chiamo e ci vediamo se ci ci sta perfetto sono cacciati nei guai là fuori no ma io ma che dici andiamo qui una donna mia mamma abbiamo quanti puntini quanti punti da questo dare un fama scena mi sa che lì ci devo andare quelle cure mhm ora ci vado prima guarda tutto questo affanculo vado a prendere delle cure a come è bello guardare dai tetti strillone strillone quello che urla mi pare che era quello che ti urla e ti butta in terra e poi arrivano gli altri e ti fanno il culetto dei zombie di merda comunque ragazzi per la pixel non so se se continuerà la serie perché onestamente sono entrati sti giorni ma non è cambiato una piccola pokémon non si trova proprio nata di nata mi dovremmo intendere di fare una nuova serie però ho queste nuove serie ho proprio bisogno unicamente di voi perchè si stasera l'ha fatta la sta facendo look però siccome ehm la nuova idea è cioè come si può dire voglio fare voglio fare nuovi pacchetti e lui ha fatto quello che già volevo provare io molto prima con voi ma vabbè dettagli siccome non copio nessuno io me lo voglio fare vediamo bel bolide bel bolide andiamo a vedere sto bel bolide va facciamo ste due missioni veloce veloce va poi torniamo a casa Alessi prendo quel bel bolide e vedo una cosa bel bolide mi prendo questo bel bolide sali mamma mia che macchina ditemi se commentate col fatto della nuova serie di minecraft se vi va di aiutarmi perchè io senza di voi non la faccio cioè caricherò video grazie ai vostri aiuti come si dice voi dite sempre ehm fai video con i tuoi iscritti ecco questo tocca sempre fare video con i miei iscritti che cazzo vuoi ma ma ehm se no per niente noi sono venuto con la stessa macchina si può dire ma va bene guarda ti muovi torniamo a casuccia io finisco il video e vado a fare altre cose mi preparo per i video per domani dai se ti muovi muoviti muoviti non mentarei se fare il giro di prova andiamo non credo ci rende più utile mi preparo per andare su di te in ogni caso che guidi tu non è molto lontano ehm cosa non è molto lontano cosa non è molto lontano cosa non è molto lontano dove mi devo andare a portare ma che consegno i meci ma vaffanculo se sapevo che era lunga poi ci metterò anni a caricare sto video ma porca puttana si ragazze che ripresenta no non vale non vale la stronza la macchina perché mi incazzo boom 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 si dai sei già rotto ma che cazzo sta succedendo ma no no ma no no fanculo macchina di merda che mi vuole fare il cappottare ma io non lo so va non mi diamo piano che è successo cosa devo fare bello dovevo mangiare il zombie ma devo capire mi ha fatto venire qua a fare cosa ok 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 ma io credo che ci sarebbe meglio prendere questa lontano andiamo a prendere il cappotto potatemi la consegno dove dove andai potatemi la consegno vabbè sì ma io devo cambiare la macchina oh merda scendi super risponde ti devo un favore non devo preoccupare se mai io no ok ciao 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 è stato bello torniamo a casa l'essi bella sta macchina bellissimo come rumore è una stranzata come seguire dove sono dai cammina se no il video viene lungo ci sta vent'anni a caricarlo porca puttana è freddo a mano stavo scherzando sta macchina proprio non si può guidare si è bella per il rumore che fa bordello però dai ma che cazzo perché si ferma ogni volta che la pola pampa si ferma ma guida è un bel cazzo sono arrivato a casuccia ma che diciamo va bene scendi che cazzo andiamo qua missione computer yeee me the fuck ah non mi dicono niente di fare va bene ragazzi io concludo il video raccomando commentate fatemi sapere per il fatto della nuova serie da fare su minecraft e se sapete come fare l'ultimo portale della dimension perché così finisco la serie ok a prossimo video ciao ciao